Giochere fino al cinquantacinquesimo, al centesimo minuto. È pronto, È를curso. Guardiamo la voce, ora dovete fare l'attenzione l'ora. È Bubblegile! Quebec! 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 Eannick! 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 Al mio conto gli sto cazzo, al mio conto gli sto cazzo, guarda che gol, è incese di merda, è incese di merda, è in un problema, è incese di gol, 2-1, Vista Nelizia, in maniera perfetta.